E salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Ferenza qui con una nuova food review Oggi proverò il Bullduck Pro, questa volta a gusto Carbo... Carbonara Ed eccoci qua, sì, dopo aver provato le versioni piccantissime Meno piccantissime Credo, non lo so Mi sono ritrovato questo sul banconi, ho detto Lo devo provare, devo provare assolutamente Packaging diverso rispetto agli altri, questa volta è molto pinky Non questo, questo, molto rosa Abbiamo come sempre la nostra fantastica pentolaccia di ramen Il Sior Bullduck che qua se la ride tutta quanta Dietro invece abbiamo tutti quanti i nostri ingredienti Valori tradizionali e modalità di cottura Pacco da 130 grammi pagato 3,29 euro E ora vedremo se come prodotto funzionerà Oppure no Però prima Andiamo a cucinare Allora, l'aspetto vi posso dire che non è proprio dei migliori Di proprio effetto carbonara non lo so Mi sembra più una sorta di vermicelli al sugo e ricotta E visto che non sono proprio ramen Io uso la forchetta C'è un odore tipo misto funghi, prezzemolo, aglio Non lo so Ma ora passiamo all'assaggio Buon appetito Maledetti Sono veramente piccanti Perché me lo fate apposta Non taglio Ormai lo sapete Se è piccante tanto non taglio Hanno una consistenza molto strana Non sento quella sensazione di uovo che mi potrei aspettare Da una carbonara Anche la gestione del piccante Devo dire che È diversa Rispetto Alle altre volte Perché In un certo senso Scompare appena finisci il boccone Magari sarà il sughetto del ramen Che ti aumenta Ancora di più La sensazione di piccante Però devo dire che Non sono male Però Dire che questa è una carbonara È come dire che io Ho una chioma lunga e folta Come quella di Goku Come Super Saiyan 3 È buono Aromatico Devo dire che Forse magari un po' mi sto abituando Ma La gestione Questa volta del piccante Sembra essere Un pochettino più Semplice Rispetto Alle altre Volte Ho rinizio A sentire Quel Giramento di testa Delle altre volte Però è strano Sono fatta Molto meglio Molto meglio E quindi ragazzi Spero che la food review Dei bulldog Alla carbonara Maledetti voi Vi sia piaciuta? Vi metterò questo Link in descrizione Gli altri food review piccandosi Mi raccomando iscrivetevi al canale Condividete da lungo e come sempre Buon apidì